I cristiani di tutto il mondo celebrano con devozione il Venerdì Santo per commemorare la crocifissione e la morte di Gesù Cristo. A Gerusalemme i fedeli hanno marciato lungo la Via Dolorosa in una processione culminata nella Chiesa del Santo Sepolcro, dove i cristiani cattolici e ortodossi credono che Gesù sia stato sepolto prima della resurrezione. I devoti cattolici delle Filippine hanno celebrato il Venerdì Santo con una rievocazione della crocifissione di Gesù Cristo nella Chiesa di San Fernando, a nord della capitale Manila. In Spagna, dove i fedeli vivono la settimana santa con particolare intensità, le piogge hanno costretto a cancellare le processioni a Siviglia e in altre città. Ma nulla è riuscito a fermare il fragore dei tamburi di Calanda, nella regione di Aragona, dove più di mille tamburi suonano all'unisono per 24 ore, senza pause in ricordo della morte di Cristo. Grazie.